buongiorno buon martedì oggi è il 4 giugno e sono partite tutte le novità del mese di giugno sono tantissime ovviamente siamo all'inizio quindi a botta ne sono uscite tantissime non le ho tutte da farvi vedere ahimè però sapete cercherò di fare del mio meglio per spiegarvele tutte e colgo l'occasione per darvi un'informazione ovviamente è questa cosa è riferita più che altro a chi magari abita nelle mie zone dovete sapere che da qualche mese noi ogni mese quando partono appunto le promozioni nuove ci troviamo in un posto in un locale dove appunto le mettiamo in esposizione invitiamo le clienti ma anche le incaricate le clienti privilegiate possono venire proprio perché così hanno la possibilità di vedere e toccare con mano le nuove promozioni perché sapete capita spesso ma claudia ma quanto è grande ma quanto è alto ma che misure ha non è facile soprattutto quando non li abbiamo già da un video non è facile dimostrare la misura la grandezza la capienza eccetera invece in questo modo si ha la possibilità proprio di prendere in mano il prodotto e capire se ci può essere utile o no per cui se siete delle mie parti in modo particolare di pedrengo o dintorni provincia di bergamo ovviamente e vi va di partecipare come ospiti e non si va mai a casa mani vuote sappiatelo chiedetemelo che vi do l'informazione noi ci troveremo giovedì sera giovedì 6 alle 20 e 30 appunto per vedere tutte le novità come ogni mese poi farò un piccolo video proprio per riprenderle tutte perché davvero ce ne sono tante ma tante non le ho e allora partiamo con la prima promozione dico sempre non badate i colori e alle varie cose io vi spiego il prodotto il mio è una capacità diversa e già l'avete vista sto parlando della manica del pasticcere la mia è così è più grande quella in promozione è tutta bianca idea da 500 ml questa è da un litro è comodissima oltre che per fare le decorazioni sui nostri dolci anche per fare che ne so le patate duquesse piuttosto che le meringhe piuttosto che dei biscotti insomma ognuno poi sa benissimo per cosa la può utilizzare la particolarità innanzitutto ha questo imbutino che va infilato all'interno in questo modo e da qua non fuoriesce nulla perché c'è all'interno una banda in silicone e questo serve poi per andare ad avvitare le nostre pipettine come le chiamo io e ovviamente hanno delle forme diverse per andare a fare diversi tipi di preparati c'è il buco grosso c'è il buco più piccolino eccolo qui c'è il taglio insomma c'è questa che poi è quella che un po si usa di più no per fare le duchesse le ciuffetti di panna eccetera e questi vanno semplicemente avvitati allora alcune raccomandazioni innanzitutto gli inserti si possono lavare la vastuiglie mettendoli dove mettiamo le posate oppure li lavate a mano la manica innanzitutto la potete appendere in cucina così almeno ce l'avete sempre lì a portata di mano oppure si può tranquillamente ripiegare conservare nel cassetto perché ha il bottoncino quindi voi la ripiegate per bene e la conservate nel vostro cassetto per lavarla acqua fredda è una punta di sapone per i piatti e ovviamente va rigirata bene in questo modo proprio come un calcino come si suol dire e soprattutto asciugata bene perché altrimenti puzza non va in lavastoviglie e in modo particolare non va in lavatrice voi direte che castroneria stai dicendo purtroppo le mie esperienze comprendono anche questa e dopo quasi 15 anni di lavoro in tupperware purtroppo mi era capitato una signora che all'inizio voleva farmi credere che la manica fosse l'infettosa però perdonatemi ma non sono proprio così inesperta e poi alla fine mi ha confessato che l'aveva messa in lavatrice va bene ok quindi mi raccomando lavarla con acqua fredda e una punta di sapone dei piatti e farla asciugare benissimo la asciugate voi con un bel panno e questa è la prima promozione dura fino all'undici di giugno quindi una settimana fino ad esaurimento scorte io ve lo dico sempre e come vi dico sempre se diventate clienti privilegiati o incaricate la pagate ancora meno perché potete usufruire dello sconto a voi riservato io per non perdere i pipettini io li chiamo pipettini ma non so esattamente non mi viene il termine esatto l'infilo dentro la manica così sono sicura che non li perdo e non non rischi di doverli poi ricomprare perché comunque ci sono i pezzi di ricaglio quindi questa è la prima promozione di questo mese scade l'undici giugno mi raccomando non arrivate all'ultimo momento e adesso torno perché ho tante altre cose di qui parlarvi ciao